Tutte le promesse, tutte le speranze... No, perché... Allora, l'abbiamo accennato prima, perché riguarda proprio il Ministro che ha lanciato un impegno chiarissimo, è stato il primo a farlo così chiaramente. Ve lo faccio vedere. Investimenti subito, ha detto una legge di bilancio, 2 miliardi per la scuola, almeno uno per l'università. Se non ci saranno mi dimetto. Dove prendiamo i soldi? Lo accennavamo, in parte anche tassando i consumi che fanno male alla salute e quindi reperire da lì i soldi. Allora, un'ipotesi, poi il Ministro ci chiarirà, potrebbe essere, ad esempio, su bevande zuccherate, le merendine, come si è detto, 5-10 centesimi, oppure sui voli aerei, si è detto un euro sui voli nazionali, un euro e mezzo su quelli internazionali, insieme ad altre, probabilmente, misure che erano state studiate, si potrebbe arrivare fino a 2 miliardi. Ecco, questo era un po' l'idea. Poi vediamo all'estero come andrà.